Zona è la principale realtà toscana nella distribuzione di alimenti a strutture turistiche ricettive. Noi siamo una realtà che si occupa di fornire e distribuire prodotti per l'ospitalità in generale, principalmente al canale della ristorazione, dei bed and breakfast, dei bar e di tutte le strutture ricettive. Forniamo prodotti dall'alimentare all'extra e facciamo questo di lavoro da oltre 40 anni. Quello che stiamo cercando di fare in questo periodo è di andare incontro a quelle che sono le nuove tendenze. Quindi abbiamo allargato i nostri assortimenti a tutto il mondo salutistico, partendo dal senza glutine, per arrivare fino alle nuove tendenze sul vegano e sul biologico. E poi abbiamo sposato appieno quella che è la nuova arte della miscelazione, per cui come andare a rivisitare i vecchi cocktail utilizzando anche topping, piuttosto che colpe pronte e quant'altro. Proprio per andare incontro a quelle che sono le nuove tendenze del mercato, cercandole di anticipare e fornire così una consulenza a 360 gradi ai nostri clienti, che possono usufruire dei nostri servizi sia venendo presso i nostri magazzini, sia utilizzando il canale di delivery e quindi di consegna a domicilio. Sul territorio toscano siamo presenti nella provincia di Livorno, siamo presenti a Cecina, Pisa, Ponte d'Era, Pistoia, Alto Pascio e Empoli. E poi siamo presenti a Sarzana e a Cagliari e sempre in Toscana a Viareggio. E poi siamo presenti a Cagliari e a Cagliari. E poi siamo presenti a Cagliari. E poi siamo presenti a Cagliari.